Come scaricare e installare così il software PC Manager della Microsoft ovviamente è un ottimo programma per eliminare file temporanei, migliorare così le prestazioni sul tuo computer, sistema operativo e soprattutto anche migliorare l'uso della memoria RAM e risolvere anche molti problemi su Windows. Ovviamente anche Windows Update se riscontrate problemi PC Manager può aiutarvi. In questo caso vai direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione e vai su download. Una volta fatto scarichi, installi così il software ti manderà così su Microsoft Store ed eccolo qua Microsoft PC Manager e facciamo apri. Ed eccolo qua. Iniziamo così la configurazione ed eccolo qua. Come puoi vedere ci sono mai 7 gigabyte, 7100 megabyte di file immondizie quindi faccio boost e mi elimina così questi file temporanei che non mi servono più e basta. Ovviamente c'è la protezione che ti aiuta così a risolvere i problemi contro le minacce. Ti aiuta anche a pulire così il disco. Applicazioni startup tipo per esempio puoi anche gestire le applicazioni che si avviano da sole. Ovviamente uso il programma Logitechub che è ottimo per le mie periferiche quindi lo tengo attivo. Gli altri programmi invece li ho disattivati. Così facendo non si attivano da solo. Quindi non si avviano così all'avvio di Windows. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.